e Pasolini l'ha detto sanzani non devi fare che è un equilibrista che fa paura avveniva tutto accaduto con l'era e l'era e io passavo con questa vespa a manetta avevo la lambretta di mio cugino solo che era lenta ho tolto tutte le ramiere che c'erano se non c'è dai 1 dai 2 ho fatto un scappasone allora a fare una corsa e gli ho sentito anche insomma è colpa bocca si è venuto a contatto con questa passione che avevano 10.000 lire quella volta non erano una sciacchiazza di 2 euro adesso insomma dai non c'era l'assicurazione, il golo, quelle cose lì a bordo sono nate le prime gare anche quelle degli anni 30 anni 40 poi ho montato sto motore sul telaio di un 175 d'anello era una bomba ma è stato uno spettacolo da vedere non c'era ma è stato un bel gare Grazie a tutti